Musica Buongiorno ragazzi e bentornati alla rubrica dove andiamo ad esporre la lore di Vanguard Ripeto per chi non avesse ancora capito che non andiamo ad esporre la lore dell'anime Cioè io non sto andando a farvi un riassunto dell'anime ma sto andando a discutere con voi A illustrarvi quello che succede nel pianeta Kray Quindi quello che vediamo anche nell'anime, viene un po' narrato anche nell'anime Ma di per sé quello che succede, la storia che succede nel pianeta Kray Nella storia delle notte, delle uscite delle varie espansioni quindi in Vanguard in sé Per chi non fosse la prima volta che arriva qua lascio qui la playlist di tutte le altre puntate Questa è la terza puntata Vedo che questa rubrica vi sta piacendo, mi state chiedendo tanti di portarla avanti Mi state facendo i complimenti quindi sto cercando di velocizzare Perché, come dire, questa rubrica non è proprio facile da creare Perché non è tratta solo di guardare l'anime e basta Mi state guardare l'anime, andare a prendere tutte le singole carte Almeno quelle più importanti, vedere se hanno un spunto di lore Leggere i Munzi Boshiro Ci sto un po', però cerco di velocizzarmi un attimo a portarvela Dove ci eravamo lasciati con l'ultima puntata? L'ultima puntata avevamo parlato quindi della guerra, la prima guerra di ribellione di Shadow Paladin E quindi eravamo arrivati a una situazione in cui, diciamo, il Paladino Reale e i suoi alleati avevano battuto il Paladino Ombra Che si era disgregato in un po' di, diciamo, varie fazioni Ma quella più importante era quella guidata da Blaster Dark E che era rimasta, diciamo, sotto gli ordini quindi del Paladino Reale Cioè non è rimasta sotto gli ordini, cioè non si era schiavizzata Ma aveva deciso di seguire la via del bene, diciamo, e quindi seguire Paladino Reale Gli altri sono o sono diventati fuori legge o sono sempre sotto Paladino Reale Ma non proprio in accordo e questo provocherà, vedremo più avanti, una seconda guerra di ribellione Ma si parla tra un po' di periodi Però cosa succede? Ovviamente siamo tornati alla tranquillità E quindi Kagero si rimette ad attaccare Paladino Reale Quindi ricominciano le lotte tra Paladino Reale e Kagero nei confini E questa volta però sia Overlord, quindi sono draconico Che non è più tanto in forza dopo lo scontro col Paladino Reale, eccetera E sia Alfred e Blaster Vade, che anche loro sono un po' depotenziati dagli scontri contro Paladino Ombra Decidono di non contarsi più, diciamo, fisicamente i loro due Ma di creare sia da una parte che dall'altra due schieramenti che combattano proprio per i confini Infatti da una parte, quindi Paladino Reale, abbiamo una forza di difesa dei confini Gestita da Alt Mile, che è la carta che sta per uscire da noi, che è già uscita da noi in G Sì, però è già presente a questo momento della storia Che va a scontrarsi e a difendere i confini contro Dragonic Bandmaster Invece questo, non so di vero in italiano, ma penso sia maestro di spada draconico Perché è una carta di Kagero che deve ancora ufficialmente uscire Motualmente uscirà in GPT-2, ma non è ancora sicuro Quindi queste due forze, diciamo, cominceranno a scontrarsi sui confini E sono loro due per cercare di guadagnare al territorio E loro hanno la loro storia, resteranno lì a combattersi Mentre anche succede tutto il casino che andremo a vedere Cosa succede però? Durante questo momento di risestimamento, di tornare un attimo in equilibrio Una strana forza si presenta su Kray Si presenta su Kray questa strana ombra Prostata proprio da nuvole nere, diciamola così Che per chi è un po' vecchiotto come me O comunque a un po' di anni Diciamo è molto simile al vuoto della storia infinita Per farci capire Quindi è una sorta di ombra che si manifesta E distrugge tutto quello che ha davanti Non è che vuole conquistare, eccetera Proprio chi resta in valia di quest'ombra Sparisce per sempre da Kray Cosa succede? Quest'ombra qui quindi sta creando una minaccia Bastanza marcata per il pianeta E quindi bisogna contrastarla Ma chi è che andrà a contrastare questa forza? Diciamo che cominciano un po' di scontri Tra i vari clan Per decidere chi andrà a comandare La guerra contro questa forza nemica Questi scontri si potraggono forse per troppo tempo Finalmente si raggiunge un accordo Dove non sarà un solo clan a combattere Quindi non sarà una lotta dritta di un clan Ma sarà una coalizione gigantesca di tutti i clan di Kray Guidati principalmente da tre clan Ovvero Paladino Ombra Paladino Reale E Kagerou Quindi nella guida di Blaster Blade Quindi Distrugge delle Lame Blaster Dark E Sovrano Draconico Cosa succede però? Queste guerre Questo accordo arriva troppo tardi E il vuoto Quindi questa forza misteriosa Riesce a rapire E portare via dal campo I tre generali Quindi Sovrano Draconico Blaster Blade Distrugge delle Lame E Blaster Dark Questa sparizione improvvisa Di questi tre capi Manna e subbuglio completamente tutte le unità Non riescono più Ad avere una linea di comando forte E quindi Cominciano a soccombere Le angherie del vuoto In questa situazione molto disperata Garmor Che ricordiamo era una truppa di Paladino Reale Capisce che non può lasciare le cose come stanno Decide di indossare l'armatura del Lupo d'Argento Che è un'armatura diciamo prestigiosa del Paladino Reale E di unire diciamo almeno le forze dei Paladini Sotto tra virgolette il suo comando Cioè sotto un'unica forza Questa unione tra Paladino Reale e Paladino Ombra Che anche se come abbiamo detto Erano già in buoni rapporti Non erano mai arrivati a una vera coesione Va a formare quindi una coesione seria E per diciamo non creare conflitti interni Su chi tu sei Se Paladino Ombra o Paladino Reale Questi due clan diciamo smettono di esistere E al loro posto viene a crearsi un nuovo clan Paladino Dorato Paladino Dorato è un clan quindi formato dall'unione di questi due clan di Paladini E è formato da sette squadroni Sette squadroni ma ne abbiamo solo quattro Non chiedetemi il perché Cioè li chiamano i sette corpi del Paladino Dorato Però ce ne sono quattro Non lo so Comunque vengono formati quindi questi sette squadroni Che sono i Red Lion Quindi i Leoni Rossi Sotto la guida di Hezel Ex guerriero di Paladino Reale Che non è mai brillato fino a tanto tempo fa Che va a prendere quindi La parte d'assalto Quindi la parte forte La parte di combattimento del Paladino Dorato Il destrero nero Blacksteed Sotto la guida di Vortimer e del drago duca spettolare Ma più che altro di Vortimer Che sono Diciamo è più altro Sono formati più che altro da Paladini Ombra E usano artefatti e magie oscure Per combattere il nemico E anche se hanno accettato questa coalizione E sono sotto Paladino Reale Vabbè come vi ho già spiegato Loro non vedono di buon occhio Diciamo collaborare tantissimo col Paladino Reale Aiutano Combattono con i Paladini Reali Però preferiscono stare per i conti loro Poi abbiamo i White Hair Quindi le Pri Bianche Guidate da Pelinor Che sono una forza più che altro di ricognizione Quindi mentre ci saranno gli scontri Loro si muoveranno Andando a cercare i Capitani Spariti E poi abbiamo i Blue Falcon Quindi i Falki Blue Qui sono praticamente Non è proprio un vero capo Sono le Valkyrie O comunque la Pescata Che abbiamo visto Che sono una forza D'assalto volante e rapida Di Paladino Dorato Quindi sono l'incursione Diciamo l'attacco Blitz Quindi arrivano veloci Combattono e scappano Lasciando poi l'assalto Di finire il lavoro Quindi questo va a formare Paladino Dorato Dalla parte invece Dell'Impero Draconico Ovviamente non è che Si sono uniti Perché comunque c'è l'astio Che c'è sempre Tra i Paladini e i Draghi Nella situazione In cui si trovano Anche Kagero Comincia a decadere E questa situazione Viene sfruttata Da alcune truppe di Kagero Che anziché usare Il fuoco Decisero ai tempi Di usare il fulmine Quindi usare Un altro elemento Cosa che non gli aveva Fatti entrare Molta in buona luce In Kagero Che li teneva Un po' In disparte Quindi Il Kaiser Draconic Vermilion Quindi il Drago Kaiser Vermilion Mi sembra Che si fosse stato Tradotto in italiano Prende invece In mano la situazione E raduna Sia le sue truppe Di fulmine Sia alcune truppe Di Kagero Insegnandogli Usare il fulmine Perché devono Entrare in comunione E soprattutto Dice ora è il tempo Di nostro Quindi noi che sappiamo Usare il fulmine E va a formare Il nuovo clan Chiamato Narukami Narukami Quindi è un clan Sempre di draghi Che però Anziché sfruttare Il fuoco Sfrutta il potere Del fulmine Infatti Narukami Significa Dio del fulmine Quindi Al posto Di questi tre clan Vengono a formarci Questi due clan Nuovi E cominciano Di nuovo La lotta Contro Il vuoto In Durante questi scontri Ovviamente Che vengono Tutta Cray Ci sono Questi scontri Contro Questo vuoto Che però Non si riesce Bene Affrontare Perché Perché il vuoto Non è corporeo Loro Cerchano di affrontare Le truppe d'ombra O comunque Delle unità Impossessate Da questo vuoto Che le rendono Malvagie Aggressive E diventano Tipo dei Vasselli Del vuoto Per combattere Le truppe Della coalizione Però In realtà Loro Non riescono A sgominare Il vuoto Perché il vuoto È incorporeo È un'estità Che sta arrivando Sta lentamente Prendendo Tutta Cray Comunque Ovviamente Lo scontro È campale Su tutto il pianeta Cray E Durante uno Di questi scontri Ezzel Arriva Nel territorio Di Magallanica E nota Che c'è qualcosa Che non torna Perché In questo territorio Oltre a esserci I soliti due clan Che ci hanno sempre Stati finora Quindi Granblue E Bermuda È comparso Un altro clan Clan Che esisteva Già da tempo Ovvero Il clan Aquaforce Quindi prima di andare avanti Facciamo un salto indietro Cos'era Aquaforce? Aquaforce Era un clan Leggendario Che esisteva da Tanto tempo Prima ancora Del Great Century Prima ancora Cioè Agli albori Del pianeta Cray Esisteva questo clan Com'era la situazione Il pianeta Cray In quei periodi là? Non c'era ancora Una diciamo Prevalenza territoriale E tutti i clan Si scontravano Tra di loro Per Dominare Alcuni territori Questi scontri Ebbero fine Quando comparve sul pianeta Il clan Aquaforce Perché Il clan Aquaforce Era un clan Di talmente Tanta potenza Che sgominò Tutti i suoi avversari E creò Una sorta di Pace Di paura Nel senso Non c'erano più scontri Tra clan Perché il clan Aquaforce Era così forte Che era temuto da tutti Che aveva conquistato L'intero pianeta Cioè tutto L'intero pianeta Era sotto il dominio Di Aquaforce E nessuno E nessuno osava sfidarlo Quindi Questa potenza Inmane Nessuno Sa come mai Un giorno Sparì Proprio Dall'oggi al domani Tutte le unità Di Aquaforce Sparirono Completamente Dal pianeta Cray Dopo questa scomparsa Ricominciarono le lotte E andrò A dipanarsi Cray Come lo conosciamo Col Gret Centauri Però Non con Già Santuario Unito E Impero Draconico Quindi Ezzel arriva E nota la presenza Di nuovo Di truppe di Aquaforce In Megallanica La cosa ovviamente Crea Come dire Dei dubbi In Ezzel E durante Alcuni scontri Sempre col vuoto Viene a scoprire Il perché Del ritorno Di Aquaforce Aquaforce N'esatezza Maelstorm Quindi Drago Blue Tempesta Maelstorm Aveva fatto Un patto Con il vuoto Stesso Ovvero Sarebbe stato Il vessillo Colui che avrebbe Portato Il vuoto Su Cray E Avrebbe Imprigionato I tre Clan Quindi Maggiori Come abbiamo detto Disfruttore del Lame Blaster Dark E Sovrano Draconico In cambio Di una forza Immensa Che avrebbe riportato Aquaforce Al Diciamo Alla potenza massima Di nuovo Ridominare Cray Questa Diciamo Rivelazione Creò Quindi Finalmente Un antagonista Serio Di questa Situazione Poiché era Aquaforce Il motivo Per il quale C'era il vuoto Su Cray Colui che aveva portato Questa minaccia E che la stava Diffondendo Era Aquaforce Edzel allora Capisce che il vero Nemico da affrontare È lì E chiama Dei rinforzi Rinforzi Che si manifestano In Narukami E i Blacksteed Di Pradino Dorato Che però Arrivano a Megallanica Ma vengono subito Formati Non da Maelstorm Ma da delle truppe Diciamo D'aiuto Di Aquaforce E creano Quindi un altro fronte Diciamo Nel nord Di Megallanica Il fulcro Dello scontro Però È sempre Edzel contro Maelstorm Nel cuore Di Megallanica Lo scontro È Immenso E gigantesco E Sembra Che stia portando A diciamo La vittoria Di Maelstorm Edzel però Capisce In questo momento Che Allora Il suo Diciamo L'obiettivo di Edzel È sempre stato Proteggere Gli altri Come un suo dovere Ma durante questo scontro Scopre che la protezione E l'aiuto Dei suoi compagni Non è un onere Ma è un onore Grazie a questa Diciamo Rivelazione Questa Come dire Mantra Di Di luce Riesce a risvegliare Il suo vero leone interno Quindi Il Leone incandescente Che vive dentro di lui Ed è che Lo fa esplodere In una forza Scommisurata Evvolvendolo In una nuova forma Ovvero Platina Ezel Platina Ezel Sta Riuscendo A Sgominare Le forze Di Aquaforce Perché Con la sua Nuovo Furore Riesce A infondere I suoi compagni Nuova forza Che riescono Lentamente A sgominare Le truppe Di Aquaforce Però Qual succede? In questo momento Maelstorm Pur di perdere Chiede un altro Supporto Al vuoto Chiedendogli Altra forza E questa forza Arriva In una Infusione Ancora Di Tenebre Quindi Di Vuoto Dentro di Lui Da farlo Evolvere In una nuova forma Qual è questa nuova forma? È Glory Maelstorm Quindi Maelstorm Glorioso Maelstorm Glorioso Ormai è fuso Completamente Col vuoto Infatti Infatti la sua forma È diventata Molto più Minacciosa Più Crudele E questa nuova forza Neanche platina Riesce A A sconfiggerla E soprattutto La sua forza Riesce a creare Una sorta di aura Di potenza Che riesce Ad infondere Potere Anche alle truppe Al fronte Nell'altro fronte Che cominciano Lentamente A respingere Anche Narukami E Blacksteed Quindi ai destreri neri Questa forza Sembra ormai Sul punto Di distruggere Quindi tutti gli avversari E porre Pianeta Kray Ciaquaforce Come il nuovo dominatore Pianeta Kray Ma Una luce Dal cielo Arriva E aiuta I nostri compagni Cos'è questa luce? Praticamente Distruttore delle lame E Blaster Dark Riescono A Come dire A Aiutare I loro compagni Anche da questo stato Di prigionia Nel vuoto Manifestandosi Sul campo di battaglia Come sotto Forma di spiriti Quindi Sul campo di battaglia Dove c'era Ezze Compare Distruttore delle lame Spirito Distruttore delle lame E sul campo Dove c'erano i Blacksteed Compare Spirito Blaster Dark La comparsa Di queste due truppe Molto rinomate Ridà Vigore E Forza A tutte le truppe Sul campo di battaglia I paladini Ombra Soprattutto Rivedendo Il loro comandante Sentono di poter Distruggere tutto E soprattutto La loro forza Di comando Fu così Immensa Che Riuscirono a Rimposizionare le truppe Prendere quindi Il sopravvento Quindi non erano più Non c'era neanche più Ezze a comandare le truppe Ma erano Blaster Blade Quindi distruttare le lame Spirito E Spirito Blaster Dark A comandare le truppe Questa nuova forza Questa nuova visione di comando Riuscì A Rinfoldare le truppe E riuscirono a sconfiggere Quindi Glory Maestorm E le altre truppe Aqua Force Nella sconfitta Maestorm Glorioso Entrò in uno stato Di sonno E venne portato via Dal vuoto Senza capire bene Dove finì Aqua Force però Ormai era tornato Cioè comunque Le truppe di Aqua Force Erano state liberate Diciamo dal vuoto Perché il patto Comunque le aveva liberate Però Ora erano Senza un leader Leader che Venne trovato In Tetra Drive Che era più propenso Invece Non a una conquista Globale Ma in una Diciamo Convivenza Tranquilla Sul pianeta Insieme a tutti Gli altri clan Quindi Aqua Force Venne rinfondato Ufficialmente come clan Esistente su Kray Gli venne data Una zona Su Magallanica E soprattutto Gli venne affidato Il compito Di fermare Le scorribande Di Granblue Ormai stavano Abbastanza rompendo E quindi Aqua Force Finalmente È un uomo Un clan ufficiale Sul pianeta Quindi Dopo questa Vittoria Ovviamente Ogni clan Tornò Al suo territorio Quindi Kagero Tornò Impero Draconico Eccetera I due clan Diciamo Formatesi Finora Però che fine Fanno Partiamo da Paladino Dorato Paladino Dorato Si scinde Tra virgolette Ovvero Quelli Di Paladino Reale Che non tornano A Paladino Reale Tornano Con Paladino Reale Quelli di Paladino Ombra Tornano a Paladino Ombra E I Gran numero Diciamo Un gran numero Di persone Che invece Trovarono In Paladino Dorato La nuova casa Chiesero a Alfred E ai suoi Ovviamente Al punto governativo Dell'Istituto Unito La possibilità Di restare Come clan Nuovo Del Santuario Unito Ovviamente Alfred Lo vise Quasi come un onore Questa richiesta E accettò Di buon grado Anzi Come ho detto Fu felice Di questa richiesta Di creare Nuovamente Cioè Un nuovo clan Quindi Il clan Paladino Dorato Il clan Paladino Dorato Che venne dato in mano A Ezel Riconoscendone Le sue doti di comando E comunque L'aiuto che diede In questa guerra E venne a formarsi Un clan Ma non solo Venne a formarsi Un clan Ma Alfred Decise Che lui Di suddellame E altri Diciamo Membri All'interno Del Paladino Che deciso Di tornare In Paladino Reale Che però Si distinsero Durante la guerra Adottarono Il nome Di Liberatore E Entrarono A far parte Di Paladino Dorato Diciamo Ad onore Quindi Anche se La linea di comando Del Santuario Unito Restò Sempre Sotto Alfred E i Paladini Reali Alfred Decise Di Diventare Un Paladino Dorato Quindi Anche qua Vedro Come un onore Avere Il sommo Capo Del Santuario Unito Nel loro ranghi E quindi Tutti I Guerrieri Paladino Reale Che si distinsero In questa guerra Adottando il nome Di Liberatore Combatterono Anche Sotto La bandiera Del Paladino Dorato La stessa cosa Diciamo Successe A Paladino Ombra Nel senso Tornò Nei suoi ranghi E tutte le truppe Che Come dire Si distinsero In questa guerra Furono Insignite Da Blaster Dark E anche Blaster Dark Stesso Della nuova nomea Di Vendicatore Quindi Un nuovo branco Diciamo Delit Del Paladino Ombra Che Diciamo Si distinse Durante questa guerra Anche in Narukami Dragoni ovviamente Chiese La permanenza Del clan Visto quello Che aveva fatto Ovviamente Le truppe di Narukami Che erano Più che altro Di Kagero Tornarono a Kagero Però Tutti i draghi Di fulmine Chiesero Visto Che Si erano Ben distinti Avano fatto vedere Il loro potere In questa guerra Di poter Restare Come Clan Soprattutto Perché Mi sono dimenticato Di dirvelo Ma È un'inezza Tra virgolette Dragonic Kaiser Vermillion Durante la guerra Quando arrivò Anche Blaster Dark Spirit Riuscì a evolvere In una nuova forma Quindi il sanguigno E Ormai la sua potenza Era quasi paragonabile A quella Di Sovrano Draconico La fine Neanche di Sovrano Draconico Quindi era più potente In realtà Di Sovrano Draconico Sovrano Draconico Quindi Ammise La forza Di questo clan E decise Di mantenerlo Stabile Dandogli Anche a loro Una nuova nomea Ovvero Quelli che si distinsero Nella lotta Durante Durante la lotta In questa guerra Vennero insegniti Del nome di Eradicatore Perché eradicarno Il vuoto Dal regno Quindi un nuovo clan Una nuova classe D'elite E ovviamente Questo nuovo clan Venne dato in mano A Dragonic Kaiser Vermillion Però Oltre a Queste Diciamo Nuove formazioni Si decise anche Un'altra cosa Visto che La prima situazione Di Diciamo Sconfitta Fu Causata Da una lentezza Di Accordo Tra i vari clan E soprattutto Tutti i vari clan Volevano Promeggiare Sugli altri Si decise Visto che Per molti La minaccia del vuoto Non era ancora sparita Di andare A formare Una sorta Di coalizione Stabile Dei vari clan Una sorta Di ONU Di organizzazioni unite Diciamo Di Cray E Si milla Come un nuovo clan A sé Venne deciso Che questo nuovo clan Dovesse stabilirsi Nel santuario unito E Questo nuovo clan Prese il nome Di Genesis Infatti A differenza Di come Pensino tutti Diciamo Che Genesis Sia una sorta Di oracolo esperto 2 Come art Mi dispiace Dirvi tra virgolette Che Art Di Genesis Sono Un mix Di molti clan Infatti Se guardate bene Genesis È formato Dalla unione Di tante unità Provenienti Da tanti clan Infatti Abbiamo I le witch Che sono Unità Provenienti Da Paladino ombra Abbiamo Le guardie del mito Che sono Robotoni Di lottatore stellare Abbiamo Unico E tutte le altre Varie truppe Che sono Di oracolo esperto Abbiamo L'evoluzione Di minerva Che non mi soviene Il nome Ma ve la lascio Qualcuna immagine Che è Di paladino dorato Comunque Paladino dorato Manda la sua truppa Abbiamo Degli angeli Provenienti Da Angel feeder Da più Angelica Abbiamo anche Alcuni draghi Adesso mi viene in mente Comunque provenienti Dall'impero draconico Quindi da O da Paladino Da Tokagero Da Narukami Comunque Abbiamo dei vari draghi E soprattutto Cosa che forse Io ho scoperto Proprio dovendo Cercare l'oror Non la sapevo Diciamo La gestione Del clan Viene data A CEO Yggdrasil Sì quindi Diventa Presidente Dell'ONU Diciamo E A differenza Da come io pensavo Che fosse una truppa Di oracolo CEO Yggdrasil È di non ettare È una truppa Di non Ex truppa Di non ettare Che è stata Messa a capo Di Genesis Quindi cosa serve Genesis Serve che Se per caso Avviene una nuova Minaccia E bisogna Rispondere Repentinamente A A questo nuovo Attacco Con una nuova Coalizione Genesis È già pronta Per prendere Accordi Nel minor tempo Possibile E quindi In impedire Un'altra Debacle Diciamo Dovuta Alla sparizione O comunque Un attacco All'attacco Prima Del nemico Dei clan Di Genesis Dei clan Di Kray Qui quindi Si conclude Questa terza parte Dedicata quindi Alla guerra Di liberazione Di Kray E diciamo Che da qui in poi Comincia a depanarsi La vera storia Perché adesso Abbiamo visto Solo un po' Di lotte Ma Ora È entrato In gioco Questo vuoto E come dire Si è stufato Di Trovare Intermediari Perché Soprattutto Si viene a scoprire Che Phantom Blaster Dragon Era stato Diciamo Corrotto Dal vuoto Una piccola Forma del vuoto Quindi era il primo Tentativo del vuoto Di attaccare Poi È arrivato L'accordo Con Maystorm E anche Dopo questo Secondo fallimento Diciamo che Il vuoto Si è un po' Stufato Di chiedere Ad altri Di fare Il lavoro Che lui Avrebbe fatto Meglio E quindi Lo staremo A vedere Permissione Fisica Forse Lo sapremo Nella prossima puntata Ci vediamo